Venite con me, andiamo a raggiungere l'autore che si occupa di Paolo Belli e della sua big band Allora stiamo parlando di Giovanni Giuliani che qui tutti chiamano Giuco, come mai? E' un soprannome di battaglia, come Tom Cruise, c'aveva Maverick, io c'ho Giuco Allora, Giuco come Tom Cruise si occupa appunto di Paolo Belli e della sua big band Allora, raccontaci, come sono questi artisti? Cosa ci dici di Paolo Belli? Paolo è bravissimo, bellissimo, esatto, belli come dice lui e basta E la sua big band? Ah, eccezionali, ce l'abbiamo anche abballando con le stelle, insomma penso che ormai lo sapete tutti Ok, allora noi siamo sul web e cosa ti senti di dire agli amici che ci stanno guardando? Continuate a farlo e poi seguite tutta la maratona di Teleton ovviamente E allora, ricordiamo che possono donare in ogni momento dell'anno collegandosi al sito internet di Teleton, Teleton.it E da quest'anno, caro Giuco, c'è anche una novità Tu hai già giocato all'eroe di Teleton? Ancora no Allora, rimedia subito collegandoti al sito Teleton.it dove tutti possono diventare eroi di Teleton Come? Lo scoprirete solo collegandovi Andiamo, andiamo subito a vedere allora appena... Andiamo Ciao Grazie Grazie a voi